dimagrire mangiando meno e spesso oppure è meglio dimagrire mangiando meno cibo ma più volte al giorno oppure mangiando porzioni più abbondanti ma meno volte al giorno quando siamo a dieta è meglio fare tre pasti al giorno abbondanti oppure cinque meno abbondanti probabilmente hai sentito dire che fare tre parti al giorno è sufficiente o forse hai sentito dire il contrario che fare più pasti alza il metabolismo è vero no non è vero ma se mangi degli spuntini oltre ai pasti principali riesci a controllare meglio la fame e cadrai meno in tentazione per questo motivo se vuoi dimagrire inserire uno spuntino a metà mattina e uno a metà pomeriggio può aiutarti a perdere peso perché soffrirai meno la fame ovviamente gli spuntini vanno conteggiati nel fabbisogno calorico giornaliero a volte però la consapevolezza di te può esserti prezzosa mi spiego meglio ci sono alcune persone che si trovano meglio facendo tre pasti abbondanti e quindi se sai di essere una di queste persone puoi usare in questa informazione nella mia esperienza personale queste persone però sono poche e la maggior parte di esse preferisce invece mangiare più spesso e meno meno in abbondanza diciamo in ogni caso dipenderà sempre e solo da te scegliere la tua strategia migliore e la migliore strategia è sempre quella che funziona sul lungo periodo dimagrire mangiando fuori casa o in ufficio a volte mi chiedono come possono pensare di seguire una dieta se sono in ufficio al lavoro o in una mensa allora la mia prima considerazione è si serio mangiare fuori casa non può essere la tua scusa per non dimagrire la mia seconda considerazione è che non è mai un singolo pasto imperfetto a sballarti la dieta il tuo successo dipende da ciò che mangi durante tutto l'arco della giornata quindi considera cosa mangi a colazione e cosa mangerai per cena una terza considerazione è quella di invitarti a provare il piatto unico un'unica porzione con i nutrienti che ti servono come puoi farlo allora dividi il piatto diciamo in quattro parti per esempio è così è così come vedi allora le prime due parti sono date una parte dai carboidrati quindi pasta riso orzo un pezzo di pane o patate un altro quarto secondo quarto qui cibo proteico preferibilmente magro come il tonno la ricotta bollo tacchino bresaula oppure legumi e gli altri due quarti del piatto per molta verdura quindi due quarti finiscono per diventare la metà con molta verdura questo è il piatto unico un'unica porzione con tutti i nutrienti che ti servono e se ti stai chiedendo e i grassi beh non devi temere perché i grassi sono presenti nei sughi nelle verdure cotte o anche crude se sono già condite oppure sono nel metodo di cottura del cibo quindi avrai un piatto abbastanza completo anche senza pesare gli alimenti la stessa cosa vale se ti porti il pranzo da casa in questo caso puoi fare addirittura meglio perché puoi scegliere la qualità del cibo che porti cosa che spesso immensa è al ribasso se sei al lavoro fai attenzione anche al numero dei caffè allo zucchero e alle merendine che puoi acquistare nei distributori automatici personalmente ti consiglio di portarti degli snack tipo frutta fresca oppure uno yogurt con dentro della frutta che hai messo tu possibilmente oppure un pacchetto di cracker magari integrali o una barretta proteica in conclusione se vuoi dimagrire ci sono due approcci uno è mangiare meno calorie ovviamente rispetto al tuo fabbisogno calorico però senza escludere nessun cibo neanche il tuo preferito il secondo approccio è fare una dieta molto restrittiva dove mangi pochissimo ed esclusivamente alimenti precisi evitando tutti quelli che fanno ingrassare con entrambe gli approcci perderai peso però io ti consiglio il primo perché perché è sostenibile nel lungo periodo e sappiamo che la sostenibilità è quella che determina successo nella dieta io spero che questo video ti sia stato in qualche modo utile spero ti abbia chiarito alcuni concetti magari ti ha dato qualche informazione aggiuntiva che puoi utilizzare subito nella tua dieta ecco se ti è piaciuto ti chiedo di lasciare gentilmente un like qui sotto e se hai domande non esitare a postarle sempre qui sotto a presto